Ecco Mirko Drudia, andiamo ad ascoltarlo. Il difensore del Pescara, protagonista, ti chiediamo subito Mirko, cosa è successo in occasione di quell'azione del primo tempo che poi ha portato al palo di De Luca e al tiro di Rodriguez sopra la traversa? Ah, è successo un'azione di gioco, spalla a spalla con l'attaccante, io sono andato giù dopo l'azione continuata e c'è stata questa occasione per loro. Due calci di rigore, quindi sconfitta di rigore per il Pescara, come hai visto queste decisioni dell'arbitro? Ma io non l'ho visto bene, le devo rivedere, però l'arbitro ha deciso così, ne prendiamo atto e andiamo avanti. Mirko, si può dire che c'è stato un passo indietro rispetto alla gara con il Cosenza, ma soprattutto anche rispetto al match giocato a Udine con il Pordenone, perché? Sì, c'è stato un passo indietro, oggi abbiamo fatto male, siamo andati piano oggi, una squadra come la nostra non se lo può permettere, soprattutto a questi livelli, noi dobbiamo continuare come abbiamo fatto le due gare precedenti a 2.000 e se no facciamo fatica. Per la prima mezz'ora, gara molto equilibrata, le due difese non hanno corso in pratica a rischi, poi c'è stato appunto quel palo, c'è stato quel contrasto che prima hai raccontato al collega, poi che cosa è successo? Come mai il Pescara non è riuscito a rialzarsi? In fondo c'era più di un tempo a disposizione. Sì, ma non avevamo la stessa intensità, la stessa grinta che abbiamo avuto nelle due partite precedenti, oggi c'è mancata e abbiamo fatto fatica sin da subito, anche se è una grandissima occasione, non ce ne sono state, a parte una loro, è stata una partita un po' equilibrata, però non abbiamo fatto bene, c'è mancato qualcosa e speriamo di rifarci subito venerdì, andiamo a incontrare una squadra tosta, molto simile a questa, quindi dobbiamo rimetterci subito a lavorare con grande intensità come abbiamo fatto fino adesso. Cittadella venerdì poi la trasferta nel posticipo di Crotone, due gare difficili per il Pescara che deve però far punti in una stagione che vede le squadre racchiuse davvero in pochissimi punti, mai così equilibrato il campionato? Sì, sì, è davvero equilibrato, molto corto e niente, noi dobbiamo riprendere il cammino che abbiamo iniziato due settimane fa, tre settimane fa, con quella intensità, con quella cattiveria, con quella grinta lì e sono convinto che facendo così riusciremo a far bene. Come mai questo Pescara oggi non è stato così incisivo secondo te, se vogliamo proprio analizzarla ancora meglio questa partita? Non lo so, anche il fatto di aver fatto otto ore di pullman e essere arrivati qui alle nove di sera sicuramente non ha inciso. Il campo un po' può avervi penalizzato? Ma no, non credo, il campo è bello, la palla andava bene, non è quello. Abbiamo avuto poca intensità rispetto alle ultime due partite, andavamo piano e abbiamo subito un po'. Guardiamo per chiudere, hai accennato tu anche alla gara di venerdì, occorrerà un altro Pescara con il Cittadella, tra l'altro, correggimi se sbaglio, questa sarà per te una gara particolare perché sei il grande ex di questa partita e saprai bene che il Pescara nelle ultime cinque partite con il Cittadella ha sempre perso, quindi l'occasione per invertire questo trend. Sì, sì, assolutamente. Sappiamo che il Cittadella per il Pescara è una bestia nera, però noi dobbiamo tornare a fare punti subito, riprendere il cammino che abbiamo interrotto oggi e andremo venerdì a fare una grande partita.